Sono circa 50 i cantieri che partiranno nelle prossime settimane sulle strade del territorio, per un totale di circa 3 milioni di euro già appaltati, con fondi che provengono da varie tipologie di finanziamento. Ad annunciarlo il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese. Per tutti gli interventi sono stati già approntati i progetti ed espletate le procedure di gara. Fra i lavori che partiranno nella prossima primavera, quelli alla SP 135 nel territorio di Battipaglia, quelli alla ex strada statale 164 fra Monte Corvino-Rovella e da Cerno e quelli alla SP 416 nel territorio di Eboli.